Leo. Leo era convinto di essersi già dato parecchio da fare. Ma quando Calypso si metteva in testa qualcosa, era una macchina. Nel giro di un giorno aveva raccolto provviste per un viaggio di una settimana. Cibo, borracce d'acqua, erbe aromatiche medicinali. Aveva tessuto una vela grande abbastanza per un piccolo yacht e messo insieme corda a sufficienza per tutto il sartiame. Aveva fatto così tante cose e il secondo giorno domandò a Leo se avesse bisogno di una mano con il suo progetto. Il figlio di Efesto sollevò gli occhi dal circuito che stava lentamente prendendo forma. Se non sapessi come stanno le cose, penserei che non vedi l'ora di liberarti di me. Quello è un vantaggio in più, ammise Calypso. Era vestita da lavoro, con un paio di jeans e una maglietta bianca piena di macchie. Quando Leo le chiese come mai avesse cambiato Luke, lei gli spiegò di aver capito quanto fossero comodi quei vestiti cucendone alcuni per lui. Con i jeans non aveva l'aria di una dea. La maglietta era piena di macchie di erba e terra, come se l'avesse strappata a Gea in persona. Era a piedi nudi. Con i capelli color caramello legati all'indietro, gli occhiamandorla sembravano ancora più grandi e belli. Aveva le mani ricoperte di calli e vesciche, a furia di lavorare con la corda. Guardandola, Leo provò una stretta allo stomaco, che non riuscì a spiegarsi. «Allora?» lo incitò lei. «Allora cosa?» Calypso fece un cenno verso i circuiti elettrici. «Posso darti una mano? Come sta avvenendo?» «Ehm, tutto a posto, credo. Se riesco a collegare questo coso alla barca, dovrei riuscire a tornare nel mondo. Perciò ti manca solo una barca?» Leo tentò di decifrare l'espressione di Calypso. Non capiva se fosse seccata di averlo ancora lì, oppure malinconica perché non sarebbe andata via anche lei. Poi guardò tutte le provviste che Calypso aveva impilato. Bastavano tranquillamente per due persone per diversi giorni. Quello che ha detto Gea, a proposito di andartene dall'isola, il figlio di Efesto esitò. «Vorresti provarci?» Calypso aggrottò la fronte. «Che intendi?» «Beh, non sto dicendo che sarebbe divertente averti accanto, sempre a lamentarti e a guardarmi in cagnesco, ma immagino che riuscirei a sopportarlo se tu volessi provare». L'espressione di Calypso si ammorbidi un po'. «Come sei magnanimo?» replicò. «Ma è meglio di no. Se io tentassi di venire via con te, la tua minuscola possibilità di successo si ridurrebbe a zero. Gli dèi hanno scagliato un'antica magia su quest'isola per trattenermi qui. Un eroe può andarsene. Io no. L'importante è liberare te, in modo che tu possa fermare Gea. Non che mi importi del tuo futuro?» ci affretto ad aggiungere. «Ma è a rischio il destino del mondo». «E a te cosa importa?» domandò Leo. «Insomma, sei lontana dal mondo da così tanto tempo». Calypso inarcò le sopracciglia, come se fosse sorpresa che le avesse posto una domanda sensata. «Non mi piace che mi venga detto cosa fare, credo, né da Gea né da nessun altro. Per quanto io detesti gli dèi, negli ultimi tremila anni ho capito che sono meglio dei titani. E sono sicuramente meglio dei giganti. Almeno non spariscono del tutto. Hermes è sempre stato gentile con me. E tuo padre, Festo, è venuto spesso a trovarmi. È una brava persona». Leo non sapeva come interpretare quel tono distante. Sembrava quasi che Calypso stesse soppesando il suo valore, non quello di Festo. «Come posso darti una mano?» Calypso si avvicinò e gli chiuse la bocca. Leo non si era neppure accorto di averla spalancata. Dunque, Leo guardò il progetto e quando parlò tirò fuori un'idea che aveva cominciato a prendere forma nel momento in cui Calypso gli aveva confezionato i vestiti nuovi. «Hai presente quel tessuto ignifugo? Potresti fabbricarmi una piccola sacca con la stessa stoffa?» Le fornì le misure. Calypso agitò una mano con impazienza. «Mi ci vorranno solo pochi minuti. Ti aiuterà nell'impresa?» «Sì, potrebbe salvare una vita. E poi potresti staccare un pezzetto di cristallo dalla tua grotta? Non me ne serve molto». Calypso aggrottò le sopracciglia. «È una richiesta strana? Accontentami, dai! Ok, considera l'ho fatto. Stasera preparerò la sacca al telaio dopo che avrò rimesso tutto a posto. Ma cosa posso fare adesso che ho le mani già imbrattate?» Sollevo le dita sporche. Leo pensò che non c'era niente di più sexy di una ragazza che si sporcava le mani senza farla tanto lunga. Ma naturalmente era un commento generico. Non si applicava a Calypso in particolare. «Certo che no!» «Beh, potresti preparare qualche altra bobina di bronzo», rispose. «Ma è un compito un po' specialistico». Calypso si infilò accanto a lui sulla panca e si mise al lavoro. Le sue mani intrecciavano i fili di bronzo in fretta di quanto avrebbe fatto Leo. «È come tessere. Non è così difficile». «Beh, casomai tu riuscissi ad abbandonare l'isola e cercassi un lavoro, fammi sapere», commentò Leo ammirato. «Non sei una frana totale». Calypso fece un verso di scherno. «Un lavoro, eh? Costruire oggetti nella tua fucina?» «No, potremmo aprire un'officina insieme», replicò Leo, sorprendendo perfino se stesso. Mettere su un'officina era sempre stato uno dei suoi sogni, ma non l'aveva mai detto a nessuno. «Leo e Calypso. Riparazioni auto e mostri meccanici». «Frutta e verdura fresca», suggerì Calypso. «Sidro e spezzatino», aggiunse Leo. «Potremmo anche proporre qualche numero di intrattenimento. Tu potresti cantare e io potrei, che so, prendere fuoco a caso». Calypso scoppiò a ridere. Una risata cristallina, felice, estese Leo con un colpo. «Visto?» disse il figlio di Efesto. «Sono simpatico!» Calypso riuscì a soffocare il sorriso. «Tu non sei simpatico! Ora rimettiti al lavoro, altrimenti niente sidro né spezzatino!» «Sì, signora!» rispose Leo. Lavorarono in silenzio, l'uno accanto all'altra, per il resto del pomeriggio. Due sere dopo, la plancia di comando era finita. Leo e Calypso erano seduti sulla spiaggia, vicino al punto in cui lui aveva distrutto il tavolo da pranzo di Calypso, e facevano un picnic. La luna piena attingeva le onde d'argento. Il fuoco spandeva scintille arancioni nel cielo. Calypso indossava una maglietta bianca pulita e i jeans, dai quali aveva evidentemente deciso di non separarsi più. Fra le dune alle loro spalle, le scorte erano impacchettate con cura e pronte a partire. «L'unica cosa che ci serve adesso è una barca», disse la ragazza. Leo Annui tentò di non soffermarsi sulla parola «ci». Calypso aveva chiarito che non sarebbe partita. «Domani posso cominciare a tagliare legna per le assi. Nel giro di pochi giorni, ne avremo abbastanza per un piccolo scafo». «Tu hai già costruito una nave», ricordò Calypso. «Largo 2». Leo Annui ripensò a tutti i mesi che aveva trascorso a fabbricare Largo 2. Chissà perché. Costruire una barca per partire da Ogigia sembrava un'impresa più spaventosa. «Allora, quanto manca la tua partenza?» Calypso aveva un tono di voce allegro, ma non incrociò lo sguardo di Leo. «Eh, non lo so, una settimana?» Per qualche motivo, dicendolo, Leo si rasserenò un po'. Quando era arrivato non vedeva l'ora di andarsene. In quel momento era felice di rimanere ancora qualche giorno. Strano. Calypso passò le dita sul circuito. «C'è voluto tantissimo a finirlo». «La perfezione non conosce fretta». Lei sorrise appena. «È vero, ma funzionerà. Per andarmene, nessun problema. Ma per tornare avrò bisogno di Festus e cosa?» Leo sbatte le palpebre. «Festus, il mio drago di bronzo. Non appena capirò come ricostruirlo, io mi hai già parlato di Festus». Lo interruppe Calypso. «Ma cosa vuol dire tornare?» Leo sorrise nervoso. «Beh, tornare qui, ovvio. Sono sicuro di averlo detto». «Nel modo più assoluto, no. Non ho alcuna intenzione di lasciarti qui dopo tutto l'aiuto che mi hai dato. Certo che tornerò. Una volta ricostruito, Festus sarà in grado di gestire un sistema di guida perfezionato. C'è questo astrolabio che…» Leo si fermò. «Meglio non accennare al fatto che lo aveva costruito una delle vecchie fiamme di Calypso. Che ho trovato a Bologna. In ogni caso, credo che con il cristallo che mi hai dato non puoi tornare!» insistette Calypso. Leo ebbe un tuffo al cuore. «Perché non sono il benvenuto? Perché non puoi? È impossibile! Nessun uomo trova oggi già due volte. È questa la regola!» Leo alzò gli occhi al cielo. «Beh, forse avrai notato che non sono bravo a seguire le regole. Tornerò con il mio drago e ti tireremo fuori da qui. Ti porteremo ovunque vorrai andare. È giusto così?» «Giusto». La voce di Calypso era malapena inaudibile. Al chiarore del fuoco, i suoi occhi sembravano tristissimi. Leo non lo sopportava. Forse lei pensava che stesse mentendo soltanto per farla sentire meglio. Tornare a liberarla lo considerava un atto dovuto. Come avrebbe potuto non farlo? «Non penserai mica che potrei mettere in piedi il garage di Leo e Calypso senza Calypso, vero?» le domandò. «Non so preparare il sidro nello spezzatino. E non so assolutamente cantare». Calypso fissava la sabbia. «Beh, in ogni caso domani comincerò a tagliare la legna», proseguì Leo. «E fra qualche giorno guardò il mare in lontananza. C'era qualcosa che sussultava sulle onde». Incredulo, il figlio di Efesto rimase a fissare una grossa zattera trascinata a riva dalla marea, che si fermò sulla spiaggia. Era talmente allibito da non riuscire a muoversi, ma Calypso balzò in piedi. «Sbrigati!» Si precipitò lungo la spiaggia, afferrò alcuni sacchi con le provviste e li portò di corsa alla zattera. «Non so quanto rimarrà qui!» «Ma…» Leo si alzò. Le gambe gli sembravano diventate di pietra. Si era appena convinto di avere un'altra settimana da passare a Ogigia. Adesso non aveva neanche il tempo di finire la cena. «È la zattera magica!» «Ma va!» gridò Calypso. «Potrebbe funzionare come dovrebbe, portarti dove vuoi! Ma non possiamo esserne sicuri! La magia dell'isola non è sempre costante. Devi installare il tuo dispositivo di guida per navigare!» Afferrò la plancia e corse verso la zattera, cosa che spinse Leo a darsi una mossa. L'aiutò a legarla alla zattera e a passare i cavi sul piccolo timone. La zattera era dotata di un albero, per cui Leo e Calypso portarono la vela a bordo e cominciarono a occuparsi del sartiame. Lavorarono fianco a fianco in perfetta armonia. Anche tra i compagni della casa di Efesto, Leo non aveva mai collaborato con nessuno che avesse l'intuito di quella piccola giardiniera immortale. In un baleno sistemarono la vela e portarono le scorte a bordo. Leo premette i pulsanti sulla sfera di Archimede, mormorò una preghiera a Efesto e la plancia di bronzo celeste prese vita ronzando. Le funi si tesero, la vela girò su se stessa e la zattera cominciò a sfregare contro la sabbia, tendendosi verso il mare. «Vai!» ordinò Calypso. Leo si voltò. Non riusciva a sopportare di averla così vicina. Calypso profumava di cannella e fumo del falò, e Leo pensò che non avrebbe mai più sentito un odore così buono. «Alla fine la zattera è arrivata», disse. Calypso fece un verso di scherno. Forse aveva gli occhi arrossati, ma non si vedeva bene al chiarore della luna. «L'hai notato? Ma se compare solo per gli uomini che ti piacciono, non sfidare troppo la sorte, Leo Valdés!» lo interruppe lei. «Ti odio ancora!» «Ok!» «E non tornerai!» insistette Calypso. «Per cui non farmi promesse vuote!» «E che ne dici di una promessa piena?» ribatte Leo. «Perché io di sicuro...» Lei gli prese il viso fra le mani e lo baciò, mettendolo a tacere nel modo più efficace. Nonostante le battute e i flirt, Leo non aveva mai baciato una ragazza. Beh, Piper gli aveva dato dei bacetti fraterni sulle guance, ma non contavano. Quello di Calypso era un bacio vero, in tutto e per tutto. Se Leo avesse avuto ingranaggi e cavi nel cervello, sarebbero andati in cortocircuito. Calypso lo allontanò da sé. «Non è successo niente!» «Ok!» disse Leo, in un tono di voce di un'ottava più alto del normale. «Vattene via!» «Ok!» Calypso si voltò, strofinandosi furiosamente gli occhi, e si allontanò di corsa lungo la spiaggia, mentre la brezza le arruffava i capelli. Leo avrebbe tanto voluto chiamarla, ma la vela catturò il vento a tutta forza e la zattera abbandonò la riva. Lui faticò ad allineare la plancia di guida. Quando si voltò, Oggigia era già una linea scura in lontananza, con il fuoco di bivacco che pulsava come un minuscolo cuore arancione. «Non è successo niente!» si disse il figlio di Efesto. «Non posso innamorarmi di una ragazza immortale! Lei non è sicuramente innamorata di me! Impossibile!» Le labbra gli fremevano ancora per il bacio. Mentre la zattera scivolava sull'acqua, riportandola nel mondo dei mortali, capì meglio un verso della profezia. «Con l'ultimo fiato, un giuramento si dovrà mantenere!» Capì quanto potessero essere pericolosi i giuramenti, ma non gli importava. «Tornerò a prenderti, Calipso!» disse al vento della notte. «Lo giuro sull'ostige!» Grazie a tutti!